Please don't stop the music 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 Please don't stop the music 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 Please don't stop the music 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 Arrivato in ritardo Come sempre Ragazzi senza riscaldamento Iniziano la partita Ecco 10 minuti Ecco il nostro avversario Giovanni Matera Nostra squadra Music 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 la camisa abbiamo come il manzano, vado a mettere, mister, sei coso un mano buona un mano buona, eh, fighi che il manzano, vado a mettere, la camisa non è buona ecco Enrico sulla fascia, è pure un avversario è Vico, è Vico, la passa a centro, Alessandro cerca il tiro, ancora Alessandro, tira e Vico si trova si gonfiorerete, si gonfiorerete, si gonfiorerete Barbra Streisand Barbra Streisand Calcia, calcia Bravo Dani, ancora Dani, ancora No, così, no, così qui abbiamo le immagini della terza rete degli avversari e poi abbiamo non voglio di Enrico che accorcia le distanze, purtroppo non difeso dal nostro fattore accorciamo le distanze, ancora la bocaccia di attacco, la palla è arrivata Enrico, Enrico, super un avversario Enrico, Pino Sì, gonfiorerete, si gonfiorerete, si gonfiorerete Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Ah, tempo leggia, tempo leggia Mamma mia Barbra Streisande Barbra Streisand Chiari peggiori che 종itti Ilsay a Piazza Papa Poco 5 B Arena Bravo! Bravo! E' late, no. E' d'esto, no. Oh no. Fionarete! 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 Gloria a te nell'aria, quale tu sia, solo uno, solo in compagnia. Ma è una vecchia storia, e' un peccato morir. Gloria a te ogni volta, siamo, saprai, figli tuoi, ma consumiamoci. Uno, quella volta, e' un peccato morir. E' sulle note della canzone di zucchero, che in questo caso, sembrano proprio scritte apposta, un terzo tempo da dimenticare ha dato la vittoria all'Olympic Fregrea. Comunque bellissima partita dei nostri, che abbiamo dominato per i primi due tempi, mentre il terzo tempo e' stato così. Ragazzi, arrivederci alla prossima partita. Rivedere! Rivedere almeno prima di fare 101 A presto! Rivedere almeno prima di fare 101 Rivedere almeno prima di fare 101 Rivedere almeno prima di fare 101 Grazie.